Tifosi bianco celesti ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella Il giorno dopo il primo successo stagionale dei bianco celesti che nella prima giornata di campionato di Serie C girone B al comunale hanno sconfitto 1-0 la Torres I ragazzi di Mister Volpe davanti a mille spettatori hanno conquistato così i primi tre punti di questo campionato grazie a un euro goal di Simone Tascone Nel post partita abbiamo sentito il capitano Andrea Paolucci e il numero 33 Silvio Mercai, entrambi i protagonisti della vittoria di ieri Andiamo a sentire le loro dichiarazioni Sì, sapevamo che era una partita difficile, l'abbiamo preparata bene, sapevamo le insidie che ci potevano aspettare Abbiamo cercato di spingere subito, poi abbiamo trovato un bellissimo gol con Simo però abbiamo creato L'importante è la mentalità e quello che proponi, poi il percorso è lungo e dobbiamo sempre dare il massimo Sicuramente è una giornata calda per noi come per loro Ovvio quando ci sono queste partite qui è importante che soprattutto in casa i ritmi cerchi di farli te A volte però non è sempre facile attaccare, proporre perché ci sono anche gli altri L'importante è essere compatti, essere squadra e dobbiamo portarci questo fino alla fine Il campionato è fatto di 38 partite quindi è importante per fare un campionato di vertice Far risultati in casa ma soprattutto farlo fuori casa Sì assolutamente, secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione Si poteva chiudere la partita un po' prima, abbiamo avuto diverse occasioni Però era importante partire col piede giusto e affrontare al meglio questo inizio di campionato con questi tre punti fondamentali Una grande prestazione da parte di tutti, abbiamo aggredito forte loro Abbiamo attaccato i spazi dove avevamo visto durante la settimana che loro facevano fatica Così è stato e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti anche con un risultato minimo Sì ho tanta voglia di ritornare in campo e di far rivedere le mie qualità Per me questo è un altro anno importante dove devo riconfermare e cercare di fare meglio quello che ho fatto l'anno scorso Oggi sono stato un po' impreciso però sicuramente ci saranno le occasioni per rifarmi È stata una partita sofferta per certi aspetti Il grande caldo, punteggio rimasto in bilico fino alla fine Valentella ha saputo portare a casa i tre punti Vi abbiamo chiesto di eleggere quello che secondo voi è stato il migliore in campo della sfida C'è stato un vero e proprio plebiscito per Simone Tascone Il cui gol è risultato decisivo ai fini dei risultati E' lui il primo MVP dell'anno, numero 17, Simone Tascone La mente e il cuore dei biancocelesti però è già focalizzato verso il prossimo appuntamento di campionato Perché domenica all'ora 14.30 l'Intella giocherà lo stadio Moccagata di Alessandria Contro i grigi dell'Alessandria Da domani la squadra si ritroverà a Leivi per cominciare gli allenamenti settimanali Naturalmente in vista del match Intella Time torna puntuale domani all'ora 19 Grazie a tutti